Ora io vi faccio vedere come rifinire ancora un attimo la struttura, ovviamente sono disponibili corsi online di modeling su ferretto o non su ferretto, durante i corsi io vi faccio vedere tutti i metodi che conosco per la realizzazione appunto del soggetto scelto, che sia il viso che sia il corpo in modo che poi siate voi a scegliere il metodo che più si addice al vostro modo di lavorare. Una volta che avete fatto questo dobbiamo andare comunque a creare un po' di volume, quindi con della carta stagnola semplicissima andiamo a aumentare un po' il volume, adesso io gli ho fatto il davanti-dietro ma è uguale, mi raccomando il seno è qui, non è quassù, ok? Se no poi vi vengono con le tette in gola e non vanno bene, il seno è in basso, quindi quando mettete la carta stagnola tenetene da conto, ok? Schiacciatela qua, perché va bene che fate sempre tutte delle Pamela Anderson, però le tette devono essere giù, non possono stare appese sotto il mento, ok? Quindi ricordatevelo, lo so io faccio sempre le Pamela Anderson perché non ne ho e vorrei averne e quindi la mia è tutta invidia e devo dire la verità che la mia è solo ed esclusivamente sanissima invidia. Quindi, detto questo, controlliamo, controllate sempre, controllate sempre, va bene? Anche i fianchi non fateglieli quassù, fateglieli in basso, i fianchi sono qui, non sono qua, va bene? Perché se no, se voi potete anche prendere le misure con il figurino, eccetera, e fare la struttura, ma se poi mi sbagliate a mettere la stagnola, di conseguenza, quando mettete la pasta di zucchero, siete, diciamo così, vincolati, ok? E vado a secca, alla fine poi vi vengono sproporzionate, va bene? Quindi mi raccomando, fate sempre attenzione, ok? Quindi ci mettiamo così, non contente di questo, ci mettiamo un attimo anche di profilo, che ci aiuta tanto. Vedete come sono andata troppo su con le chiappe? Quindi, le chiappe, quindi dobbiamo farle scendere un po', ok? Perché se no poi gli viene il sedere troppo in alto. Quindi, qui c'è il seno e qua c'è il sedere, ok, così va bene. Adesso, in teoria, ci sarebbe ancora un lavoro da fare, ma io non lo vedo, mi sa che l'ho dimenticato, ci sarebbe da rivestire tutto con lo scotch di carta, o con la butta perca. Vabbè, io adesso non ce l'ho, direi che è una cosa abbastanza semplice, potete farlo anche voi. Allora, perché rivestiamo con lo scotch di carta o con la butta perca? Perché la, ecco, c'è una qua rivestita, ve la faccio vedere. Perché la stagnola non è porosa, quindi, soprattutto in questa stagione che viene il caldo, la pasta di zucchero tende ad ammorbidirsi. E la pasta di zucchero morbida sulla stagnola scivola via. E quindi voi mettete la pasta di zucchero, ma poi la pasta di zucchero scivola, si vede il ferretto sotto e quant'altro. Con la butta perca, invece, o con lo scotch di carta, appunto, sono carta, che cosa succede? La pasta di zucchero, ammorbidendosi, inumidisce lo scotch, inumidisce la butta perca e fa proprio effetto ventosa, ok? Si appiccica alla butta perca, allo scotch di carta e questo crea un'ulteriore sicurezza sulla stabilità della vostra struttura. Vi dirò di più, con una struttura in fil di ferro ben fatta, ok? Non avete grosse problematiche ad utilizzare qualunque tipo di pasta di zucchero. Cioè, io addirittura ho fatto delle strutture con la pasta da copertura. Proprio perché, se la struttura è ben fatta, la pasta di zucchero comunque si appiccica e non si muove più, ok? Qualunque sia la pasta di zucchero che voi avete utilizzato. Certo, magari se voi lo toccate è mollo, è morbido, è leggermente appiccicaticcio, però potete star certo che non vi cede, va bene? Ok, adesso vi giro, ho finito. Eccoci, ci siamo. Quindi, che cosa abbiamo fatto oggi? Io spero che la lezione vi sia piaciuta. Oggi vi ho fatto vedere come io realizzo una struttura in fil di ferro. Ricordo che per tutto giugno, tutto luglio e probabilmente anche un po' di agosto sono sempre disponibili i nostri corsi online, quindi corsi individuali e personalizzati, dove vi insegnerò tutte le tecniche che mi chiederete. Per qualunque informazione, ovviamente sono a vostra disposizione, potete scrivermi sia un messaggio su Facebook, sia una mail a shopchiocciolabimagenta.it oppure un messaggio WhatsApp al 345 8241435. Basta! Direi che sul nostro canale YouTube è già stato pubblicato il video di oggi, quindi mi raccomando, iscrivetevi Bimagenta per non perdervi neanche un tutorial e mi raccomando, se i video vi piacciono, alzate il pollicione e condividete. Ragazze, vi auguro una buona giornata, direi che ci vediamo domani sempre alle 2 qui. Se volete vedere qualcosa, scrivetemi, mi raccomando, perché io metto insieme le varie cose che mi scrivete tutti i giorni, però se c'è qualcosa nello specifico che volete vedere, mi raccomando, non vi fate nessun problema, scrivetemi che se posso, molto volentieri, lo vediamo insieme. Ragazze, buona giornata, buon divertimento, buon proseguimento, buon tutto, insomma, che vedevo di... Buona giornata, a domani, baci baci, ciao! È il caldo, è il caldo, comincia a strallunare, ci vediamo. Ciao belli, buona giornata, ciao!